Un anno di servizio civile nelle riserve naturali della provincia di Pesaro Urbino, le storie di tre ragazzi che si occuperanno di tutela e valorizzazione ambientale. Spostiamoci ora nel Pesarese per parlare di ambiente, occupandoci di un progetto di servizio civile regionale di tutela e valorizzazione di alcune delle aree più belle paesaggistiche della provincia e dell'intera regione. Il Furlo, ma anche il Sasso, Simone Simoncello e il Parco San Bartolo. Vincenzo Varagona. Tre storie diverse, in comune la passione per l'ambiente. Marco, Daniela, Filippo, spenderanno un anno di servizio civile regionale in tre riserve naturali della provincia di Pesaro Urbino, nell'ambito di un progetto coordinato dalla regione. Una politica che ha già nell'immediato tre risultati, cioè interviene sul territorio attraverso gli enti che presentano a noi i progetti, sulla comunità su cui insistono i progetti e soprattutto sui giovani che sono quelli che poi mettono in atto questi progetti. Io vengo dagli studi effettuati in Scienze Forestali e Ambientali ad Ancona, quindi sono laureato e ho deciso di svolgere un anno nel servizio civile volontario regionale per continuare la mia passione nel mondo ambientale. L'obiettivo principale di noi volontari è quello comunque di contribuire al patrimonio ambientale regionale impegnandoci a svolgere svariati tipi di attività all'interno dei nostri parchi come la salvaguardia dell'ambiente, la vigilanza, la manutenzione dei sentieri, delle strutture e anche attività di accoglienza e informazione verso qualsiasi tipo di turista o visitatore. Molto concretamente mi sono trovato a immergermi nei fondali del parco, a fare riprese audio-video, a raccogliere dati, a coordinare un lavoro con le scuole, a fare interventi nelle scuole, a collaborare con le università nelle attività di ricerca. Oltre a ciò il Parco San Bartolo ha ovviamente anche una parte terrestre e per quanto riguarda la parte terrestre stiamo terminando la tabellazione dei sentieri in collaborazione col CAI di Pesaro. Abbiamo dei progetti sulla migrazione dei rapaci perché è un punto molto importante per quanto riguarda la migrazione di questi animali. Abbiamo un progetto sulla fauna, in particolare sto svolgendo un progetto sui mammiferi, i micromammiferi, raccogliendo immagini tramite le fototrappole.